Con la recrudescenza del Covid e con il picco influenzale stagionale, sono venute fuori le fragilità dei pronto soccorsi italiani. Ma anche Taranto non è esente da questo stress a cui sono sottoposti i presidi. Ne parliamo con il presidente dell'Opi, dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, il dottor Pierpaolo Volpe. Qual è la situazione a Taranto? La situazione a Taranto non è completamente diversa da quella che noi oggi leggiamo in tutta Italia. Taranto paga lo scotto di un sottodimensionamento di personale rispetto anche alle altre province della Puglia che rinviene da lontano e Taranto oggi vive una condizione di vera emergenza, non solo dovuta alla carenza di medici, ma dovuta alla carenza di infermieri e soprattutto di personale di supporto in molte articolazioni dell'ASL Taranto. In questa fase cosa chiedete? Noi chiediamo un incontro immediato al direttore generale Vito Gregorio Coracicco, ma un supporto regionale perché oggi l'ASL è vincolata a quelle che sono le disposizioni regionali, le delibere di giunta che impongono una sorta di commissariamento dei direttori generali. Quindi noi chiediamo di rimpinguare le dotazioni organiche e di fornire il giusto numero di operatori, di infermieri. Abbiamo una gradutoria concorsuale che sta per scadere, abbiamo personale ancora da stabilizzare dando dignità al rapporto di lavoro, ma soprattutto in questa fase abbiamo necessità di assumere personale di supporto per sopperire alle gravi carenze che abbiamo, soprattutto al Santissima Annunziata, ma non sono esenti il presidio ospedaliero di Martina Franca, di Castellaneta, che sono quelli che vivono forti sofferenze. In tale maniera si potrebbero dare delle risposte certe di qualità anche all'utenza? Certo, perché io sento parlare di rispetto di Lea. Io sono d'accordo, abbiamo rispettato i Lea, abbiamo fatto un abbattimento delle liste d'attesa, ma che qualità abbiamo offerto al cittadino? Grazie a tutti.